Bus Italia Veneto annuncia nuovi orari per gli autobus. L'emergenza coronavirus stravolge il trasporto pubblico padovano. Da martedì infatti gli autobus urbani applicheranno l'orario festivo, quelli ex urbani invece seguiranno l'orario prefestivo. Alcune corse verranno rinforzate mentre verrà attivato un servizio a chiamata simile al night bus nelle ore diurne. Questa iniziativa però prevede che ci sia un'effettiva necessità di spostamento. Per il servizio urbano anche durante la settimana si fettuerà servizio festivo con orario festivo tra alcune corse di rinforzo specie sulla linea 7 e sulla linea del tram che sono mezzi che la gente utilizza per andare al lavoro. Metteremo quindi qualche corse più rispetto al festivo per permettere alle persone di utilizzare il mezzo mantenendo una giusta distanza fra le persone. Il servizio extraurbano invece utilizzerà servizio orario prefestivo cioè quello del sabato mentre durante la settimana di giorno espanderemo il servizio del night bus quindi servizio su chiamata che sarà prontabile tramite app invitando però le persone a utilizzarlo solo se dovessero avere effettiva necessità di muoversi. Stiamo vedendo meno gente moltissima meno gente sul trasporto pubblico e questo è una buona notizia vuol dire che la gente sta rispettando sta rispettando le norme invitiamo quindi a utilizzarlo è sicuro perché lo stiamo sanificando tutti i giorni il tram viene sanificato ogni corsa gli altri mezzi ogni giorno prima di essere prima di entrare in servizio però l'invito è di utilizzare il mezzo e di uscire di casa solo se c'è un'effettiva necessità.